scuola ancora incerta la presenza anticipata annunciate misure per la sicurezza maxi operazione della guardia di finanza nel mirino anche un commercialista panese covid 107 nuovi casi a pesaro ancora alto il numero di decessi nuova asta deserta per villa marina nessuna offerta per le strutture di viale trieste una buona serata a tutti i telespettatori di rossini tv il canale 633 del digitale terrestre bentornati a un nuovo appuntamento con l'informazione del nostro telegiornale apriamo questa edizione parlando ancora di scuola perché si continua a discutere sull'anticipazione della riapertura degli istituti superiori in regione ieri inoltre è stato annunciato un importante pacchetto di interventi per il rientro in sicurezza in classe vediamo servizio non c'è ancora l'ufficialità ma sembra ormai quasi confermato il rientro in classe degli studenti delle scuole superiori per il prossimo lunedì un ritorno anticipato quindi rispetto a quanto indicato dall'ordinanza regionale attualmente in vigore che per gli istituti superiori prevede la didattica distanza fino alla fine del mese a margine del consiglio regionale di questa mattina il governatore francesco acquaroli ha ribadito che la data del 25 gennaio rimarrà un'ipotesi ancora fino a domani quando arriveranno i nuovi dati relativi all'indice rt e al numero di sintomatici giornalieri innanzitutto è un'ipotesi di data perché la scelta definitiva avverrà probabilmente nella riunione che si svolgerà mercoledì prossimo quando sia l'indice rt sia il dato dei sintomatici giornalieri sarà chiaro e a tutti in maniera anche più forte e consapevole e se questi presupposti si verificheranno tutti credo che dalla prossima settimana si potrà tornare con le elezioni in presenza al 50% e insieme alle elezioni in presenza al 50% cercheremo di mettere in campo tutta una serie di iniziative volte a garantire la sicurezza nelle scuole iniziative che già sono state in qualche maniera realizzate qualche tempo fa sostenendo i genitori e gli alunni e le famiglie nell'acquisto di sistemi per la didattica a distanza poi oggi interverremo sulla sanificazione degli ambienti e interverremo sulla reazione sul ricambio e ricircolo dell'area delle classi nelle scuole. Quando abbiamo emesso l'ordinanza i parametri erano molto più alti e soprattutto c'era stato una restrizione a livello governativo quindi le motivazioni dell'ordinanza sono state dettate più che altro da un restringimento dei parametri RT a livello nazionale invece oggi i dati che abbiamo sono più confortanti perché la curva è in discesa e quindi siamo contentissimi di dare questa notizia adesso aspettiamo di analizzare i dati di oggi e di domani prima del tavolo con il mondo della scuola per dare poi dopo ufficialmente domani la notizia della riapertura. Diverse invece le misure ipotizzate per garantire un rientro in sicurezza nelle aule. In primis la possibilità confermata dall'assessore alla sanità a Saltamartini per studenti, docenti e personale ATA di sottoporsi al tampone rapido recandosi in uno dei punti attualmente allestiti per lo screening anche se questo risulta essere in un comune diverso da quello di residenza. A seguito del consiglio regionale di questa mattina l'assessore ai trasporti Castelli ha invece sottolineato la necessità di aumentare da parte del governo nazionale le risorse destinate e le marche per implementare i servizi di bus aggiuntivi, risorse che ad oggi si traducono in circa 3 milioni di euro. Infine, come riportato dall'assessore con delega alle infrastrutture e ai lavori pubblici Baldelli, diversi saranno gli interventi per garantire più sicurezza attraverso la sanificazione degli ambienti scolastici. Aspettavamo un intervento governativo in tal senso, non c'è stato, quindi stiamo recuperando risorse per garantire la strumentazione necessaria per la ventilazione meccanica controllata delle nostre aule che garantiscono il ricambio dell'aria, quindi una funzione anti-covid, ma saranno interventi strutturali che serviranno anche per il futuro. Gli edifici non sono di nostra proprietà, ma sono di proprietà provinciale e comunale, e quindi chiederemo la partecipazione di questi enti proprietari per rivolgersi a ogni tipo di scuola, di ogni ordine e grado. Per quello che riguarda i tempi, noi saremo in grado, dopo vedremo anche le disponibilità dei comuni e delle province, di realizzare un bando in cui i comuni potranno partecipare per creare subito una gradatoria in due o tre settimane. Il resto poi verrà demandato agli altri enti che sono proprietari degli istituti scolastici. E si parla da giorni anche dell'organizzazione dell'attività di screening destinata agli studenti e al personale scolastico. Il comune di Monbaroccio però ha giocato d'anticipo perché proprio la scorsa settimana è stata eseguita per la terza volta l'attività di controllo mediante i tamponi ai ragazzi, ai docenti e al personale della scuola primaria e secondaria di primo grado Barocci. Ce ne parla nell'intervista il sindaco di Monbaroccio, Emanuele Petrucci. Siamo riusciti a tamponare 140 figure, di cui 128 alunni e 12 insegnanti. Una classe della terza media purtroppo era già in quarantena. Questo intendimento è nato a fronte di un incontro che si è avuto con la dirigenza scolastica, anche con Cinzia e Belgini, nonché degli insegnanti. Ed è stato un bel test, un bel test che appunto ci ha permesso di tranquillizzare tanto le famiglie anche perché si era creata una situazione un pochettino particolare, soprattutto a fronte della quarantena dei ragazzi di terza media che a tutt'oggi sono a casa. A fronte di 140 tamponi si è verificato un positivo, che a questo punto è domiciliato come tutta la sua classe. seguirà un tampone molecolare per la sua figura e sperando che si risolva quanto prima la problematica. Questo è stato fondamentale perché con questo percorso siamo riusciti a ridimensionare il problema ad una classe sola, in quanto circostanziando con quella classe la quarantena gli altri ragazzi, sia della primaria che della secondaria, potranno continuare la lezione in tutta tranquillità. È stata una giornata impegnativa, organizzata secondo me in maniera corretta, è scorso tutto in maniera molto ligia ed è stato anche un momento molto molto intenso per quanto riguarda il rapporto all'unni insegnanti, le quali si sono prestate anche a fare dei piccoli regali, dei piccoli doni, definendo la giornata come la giornata coraggio. Quindi è andato tutto bene, anche se qualche bambino, qualche bambina in particolar modo, qualche pianto, prima l'ha fatto, prima di fare il tampone, poi dopo si è risolto il tutto nel migliore dei modi. In primo piano anche la cronaca con un'importante operazione della Guardia di Finanza del nucleo di Brescia che però ha interessato anche il nostro territorio. È stata infatti scoperta una maxievasione fiscale e fatture false per centinaia di milioni di euro che ha condotto all'arresto di 24 persone e al sequestro di beni per oltre 21 milioni di euro. 104 le persone fisiche e 126 le società con sede in diverse province italiane coinvolte nel giro di illeciti. A tal proposito, la Compagnia della Guardia di Finanza di Fano ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di un commercialista fanese. Nel corso dell'operazione sono stati perquisiti l'abitazione e lo studio del commercialista ed è stata inoltre data esecuzione per il sequestro preventivo di un'abitazione appartenente all'uomo. La pagina degli aggiornamenti Covid nel territorio regionale e il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.502 tamponi. 2.481 nel percorso nuove diagnosi di cui 1.002 nello screening con percorso antigenico e 2.021 nel percorso guariti con un rapporto positivi testati pari al 14,5%. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 359 con 107 casi in provincia di Pesaro e Urbino. Il totale dei casi a livello regionale comprende 44 nuovi soggetti sintomatici. Nella serata di ieri sono stati inoltre notificati 16 nuovi decessi legati al Covid-19. Due delle vittime erano residenti nella provincia pesarese. E ora cambiamo pagina e torniamo a parlare del complesso di Villa Marina perché è andata a vuoto la nuova asta che interessava le strutture di Viale Trieste. Continua ad essere in stallo la situazione che riguarda la vendita dell'area di Villa Marina. Ancora senti le offerte destinate al plesso di proprietà dell'Inps motivo per cui, in mancanza di proposte economiche concrete come è accaduto anche negli scorsi mesi estivi l'ultima asta è andata nuovamente deserta. Sempre due i lotti in vendita il primo, quello comprendente la struttura ex scuola e convitto di oltre 12.000 metri quadrati e poi la zona sportiva situata dall'altra parte della strada in Viale Trieste. Proprio la sportiva scoperta di Villa Marina di recente è stata oggetto di interesse da parte dell'amministrazione comunale. Nell'ultima estate, infatti insieme all'esperimento di pedonalizzazione di Viale Trieste il Comune aveva deciso di allestire nella zona fino alla fine della stagione 150 parcheggi gratuiti ad uso cittadino. Esperimento considerato più che positivo e riuscito da parte dell'amministrazione la quale aveva poi ipotizzato un probabile interesse per l'acquisizione dell'area insieme a Pesaro Parcheggi con l'obiettivo di riproporre la soluzione adottata nell'estate 2020 anche per la prossima stagione. Invariato è il valore degli immobili oggetto di tagli rilevanti già nell'ultima asta dello scorso giugno che hanno abbassato il costo totale dell'intera proprietà di circa mezzo milione di euro. Il complesso di Villa Marina arriva quindi a contare la cifra di 5,8 milioni di euro una somma composta dagli oltre 4 milioni della struttura ex colonia a cui va aggiunto il restante milione e 650 mila euro della zona sportiva. Una riduzione di prezzi notevole soprattutto se riferita ai numeri del 2019 con una differenza di costo superiore ai 3 milioni di euro. A rimanere fuori dal discorso vendita anche in questa occasione è stato l'edificio della ex Pesaro Studi. I locali della vecchia sede universitaria non compresi nel discorso Asta potrebbero risultare funzionali nei prossimi mesi ad ospitare gli studenti dell'istituto comprensivo Dante Alighieri di Soria per il quale sono previsti degli importanti interventi di ristrutturazione. Ancora incerto quindi il destino del grande comprensorio di Viale Trieste per cui ancora oggi con l'ultima Asta intercorsa non si è palesata alcuna offerta concreta. Entrano in vigore a partire da oggi le nuove modalità per raffruire delle biblioteche comunali. Alla San Giovanni dal martedì al venerdì con orario 10.30 a 19 sarà possibile entrare per prendere libri per studiare o navigare in internet. su prenotazione contattando il numero 0721 387 761 Prosegue anche il prestito a domicilio attivo tutta la settimana dal lunedì alla domenica per ricevere i materiali direttamente a casa mentre per le restituzioni è possibile utilizzare il contenitore vicino alla porta d'uscita in via Passeri dal martedì alla domenica. Nelle biblioteche di quartiere l'ingresso è possibile soltanto per un massimo di 15 minuti. Le sale studio sono aperte su prenotazione e con posti limitati per garantire le distanze di sicurezza. Funzionanti le attività di prestito che si consigliano vivamente su prenotazione. Inoltre anche la Biblioteca d'Arte dei Musei Civici offre i servizi di apertura al pubblico il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 9 alle 13. Sarà possibile consultare e studiare in sede soltanto su appuntamento. Nuovo incontro per i tour operator in coming delle Marche che questa volta si sono interfacciati con l'Associazione dei Comuni Marchigiani Anci Marche. Un confronto positivo rimarcano gli operatori del turismo in cui sono stati condivisi sia i problemi da affrontare subito legati alla tutela delle imprese e al rischio di perdita di molti posti di lavoro che alle nuove progettualità da sviluppare insieme seguendo le strategie regionali per il rilancio del turismo. Ed è stato presentato questa mattina il progetto Fano Cammina. L'iniziativa si articola in varie azioni tra cui il gruppo di Cammino con appuntamento fisso che è stato però sospeso a causa del Covid le lezioni di ginnastica dolce e un ciclo di nuovi incontri con medici e professionisti per approfondire tematiche di salute in questa particolare epoca Covid. Appuntamenti che saranno trasmessi a partire dal 21 gennaio alle 17.30 sulla pagina Facebook del Comune di Fano. Nuovo appuntamento per Corto Dorico Resiste domani mercoledì 20 gennaio è in programma il concerto del pianista pesarese Mario Mariani che porterà in scena al Teatro Rossini lo spettacolo De Fellini Variation in omaggio al grande regista italiano. L'evento sarà in diretta streaming a partire dalle ore 21 sulla pagina Facebook di Corto Dorico. E negli ultimi giorni ha preso il via l'attività erogativa 2021 della Fondazione Cassa di Risparmio che mette a disposizione 800 mila euro per enti e associazioni del territorio. Un contributo alla collettività che ci viene illustrato nella prossima intervista dal presidente della Fondazione Marco Martelli. L'attività erogativa per la stagione 2021 per l'esercito 2021 di fatto è partita ai giorni scorsi cioè all'inizio del nuovo anno la Fondazione comunica la possibilità alla collettività locale la possibilità di avanzare richieste per i contributi dell'esercizio 2021. Il nostro piano programmatico prevede per questo esercizio la disponibilità di 800 mila euro 800 mila euro ripartiti tra interventi diretti ai vari richiedenti e anche interventi diciamo così proposti dalla Fondazione come sostegno indiretto quindi sostenimento di costi o fornitura di servizi ai vari enti cittadini di questi 670 mila euro 330 mila saranno dedicati almeno nelle previsioni ovviamente al settore volontariato 200 mila al settore educazione 140 mila al settore artistico i modi di intervento le modalità di intervento sono variegate nel senso che la Fondazione interviene con interventi propri come realizzato nel 2020 col palcoscenico Marche interviene con contributi all'attività istituzionale ad enti diciamo così di eccellenza del territorio pensiamo una per tutti potrebbe essere la Caritas o altre istituzioni che comunque per tradizione assolvono in maniera diciamo così riconosciuta unanimemente riconosciuta efficace o e finanziando da ultimo alcuni progetti che le varie associazioni enti presentano questo verrà fatto tutto nell'ambito di una sessione erogativa unica al fine di facilitare la comparazione tra le varie richieste essendo i fondi per natura per delimitati e quindi per avere la possibilità di poter sostenere quelle ritenute diciamo più meritevoli nel contesto delle varie domande presentate 60 compagnie per più di 200 eventi sono i numeri di Marche Palcoscenico Aperto Festival del Teatro Senza Teatri progetto ideato e promosso da Amat insieme alla Regione Marche vediamo di cosa si tratta in questo prossimo servizio partirà sabato 23 gennaio Marche Palcoscenico Aperto Festival del Teatro Senza Teatri un festival lungo 5 mesi che vede coinvolte fino al prossimo maggio 60 compagnie per più di 200 eventi di teatro musica danza e circo contemporaneo che si svolgeranno in streaming online al telefono o su whatsapp con 545 lavoratori dello spettacolo coinvolti il festival nato dalla volontà dell'assessorato alla cultura della Regione Marche insieme ad Amat presente i lavori dei 60 artisti e compagnie selezionati tra le 370 proposte pervenute a Marche Palcoscenico Aperto in questa prima fase il cartellone dal 23 gennaio al 31 marzo offre 104 eventi e vede coinvolte 30 compagnie mentre la programmazione dei mesi di aprile e maggio sarà presentata prossimamente e vedrà coinvolte le altre 30 compagnie il cartellone con le informazioni relative ai primi eventi in programma tra cui orari e piattaforme su cui si svolgeranno è consultabile sul sito www.amatmarke.net avevamo un orizzonte di attesa appunto sapevamo che c'erano tanti artisti marchigiani che avrebbero raccolto la sfida appunto del teatro senza teatro e di un teatro che non chiede la presenza non immaginavamo francamente così tanti insomma 370 progetti di grande valore un lavoro di selezione molto molto faticoso che si è dovuto appunto forzatamente fermare a 60 progetti perché le risorse erano quelle ricordo che avevamo messo un tetto di 5.000 euro di contributo che è un buon tetto è una scelta che abbiamo fatto con la legione Marche per molto tempo abbiamo giustamente identificato nel luogo l'unica possibilità timidamente con Meama c'era un mossi la scorsa primavera ad inizio lockdown con una prima rassegna che ha fatto molto parlare in Italia fino a ricevere la segnalazione di progetto dell'anno dalla rete critica che era Now Everywhere cioè la possibilità che la sfida in qualche modo che la comunicazione teatrale potesse non fermarsi malgrado il contesto abbiamo imparato in questo anno che tutto può essere teatro e che tutto può essere utilizzato per fare teatro ma tutto quando dico tutto intendo proprio tutto perché devo dire i nostri artisti non si sono fatti mancare nulla ci sono progetti che si svolgono per corrispondenza ci sono progetti che si svolgono per mail oltre naturalmente a un utilizzo massiccio ma questo è insomma è ovvio anche perché abbiamo imparato a usarli al meglio tutto il supporto digitale quindi attraverso streaming attraverso i social e quant'altro e ogni progetto ha delle sue peculiarità in certi casi è richiesto una presentazione in certi casi addirittura proprio perché il rapporto è molto artista-spettatore l'artista e lo spettatore deve prenotarsi prima perché deve fare un percorso devo dire che un filo rosso di tutti questi interventi è una grande attenzione con lo spettatore e spesso anche di gioco quindi molti eventi sono anche in qualche modo interattivi prevedono un rapporto con lo spettatore devo dire particolarmente intenso e questa era davvero l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale vi ricordiamo la programmazione di Rossini TV per questa sera alle 21.15 potrete vedere la replica del match sportivo che è andato in onda questo pomeriggio su Rossini TV e che vede protagonista l'Ital Service Pesaro contro il Real San Giuseppe la replica quindi questa sera alle 21.15 l'informazione torna puntuale domani mattina con la rassegna stampa Buongiorno Rossini la lettura dei quotidiani locali in diretta alle 7.20 e poi in replica sempre su Rossini TV alle 8.15 11.20 12.30 14.18 e torna puntuale sempre domani mattina anche l'appuntamento con Casa Rossini condotto da Paolo Pagnini che avrà come ospiti Paolo Benedetti direttore della Banca di Pesaro Gregorio Guerra dell'azienda agricola Melograno e Andrea Pagnini massio fisioterapista l'appuntamento in diretta alle 10 e poi in replica alle 16 e alle 22 grazie per averci seguito anche in questa edizione del nostro telegiornale vi auguriamo un buon proseguimento di serata su Rossini TV